Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, come sempre sono Pasquale, questo è Risparmio, bentornati in un nuovo video, oggi andiamo di nuovo a riparlare di argomento che a me mi sta a cuore, come ben sapete sono innamorato di dividendi, oggi invece andiamo ad affrontare non tanto azioni particolari ma un settore particolare o anzi una specialità, una tipologia di aziende che sono molto particolari, quelle che vengono definite dividend kings, che sono aziende molto particolari perché hanno aumentato il loro dividendo per almeno 50 anni consecutivi, questo vuol dire che sono aziende che teoricamente sono un po' più solide per varie motivazioni ma poi andiamo a parlare un attimino del video, proprio perché hanno affrontato diverse tipologie di problematiche nell'arco delle decadi e sono ancora lì pronte a darci questo flusso di cassa. Ovviamente prima di iniziare volevo chiederti che se sei nuovo sul canale potresti sempre, non lo so, iscriverti e anche cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nel suo video successivo, poi sia che se tu sia nuovo o che sia vecchio o decrepito come me, magari un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, al bacio proprio, come dicono a crotone, al bacio. Vabbè comunque, ciancio alle bande o bando alle ciancio, andiamo un attimino a parlare di questi dividend kings, in particolare voglio proporle tre, secondo me aziende che vorrebbero prendere nel portafoglio o magari ce le ho già, chi mi segue lo sa. Comunque iniziamo. Prima di tutto, cosa sono queste beniamate dividend kings? Ho preparato delle slide molto chiare. Allora, i dividend kings sono delle società che hanno aumentato per almeno 50 anni consecutivi i propri dividendo, questo indipendentemente dalle varie problematiche che il mercato le ha potuto dare nell'arco del tempo. Prolli tecnologici, tassi di interesse in aumento, recessioni economiche, attacchi terroristici, pure me, anche io, ce l'ho messo io sta cosa. Le dividend kings sono aziende eccezionali che hanno mostrato durata, generazioni di cash flow continuano nell'arco del tempo, delle decati appunto molto stabili, sia dal punto di vista del capital gain, ma anche dei dividendi, perché è una cosa molto prevedibile. Al momento queste società sono solo 31 e possono freggiarsi di questo titolo, appunto solo queste 31 società. Le ultime aggiunte sono queste, Step & Company, Stanley Black Decker e SJW Group, California Water Service e il Federal Realty Trust, queste si sono aggiunte nel 2017. L'ultima invece è Commerce Bank Share, che si scrive così, ho controllato, e invece si è aggiunta nel 2018. Come analizzarle però? Perché uno dice, sono dividend kings, saranno sicure? No, perché sono anche dividend kings, e molte volte tante di queste sono, che vanno a dare delle performance non solo economiche, per cui come si vanno a comportare come aziende, ma anche di mercato, per cui capital gain o dividendi pessime, per cui bisogna essere in grado, come sempre, di fare un'analisi ad ampio spettro. Solo perché un'azienda ha aumentato il proprio dividendo per 50 anni, non significa che questa la quantifichi come un'azienda sicura, un'ottima opportunità di investimento attraente dall'allettante. È vero che con almeno 50 anni di aumento considerevole del proprio dividendo, una dividend king ha già dimostrato tantissimo, tuttavia bisogna comunque, come ogni azienda, considerare che il mondo è mutevole, per cui nell'arco del tempo, quello che adesso potrebbe essere un vantaggio competitivo, potrebbe non esserlo in futuro. Un settore che è proficuo adesso, fra 10 anni potrebbe essere un settore perdente, per varie motivazioni, magari aumenta la tecnologia, avanza con delle nuove soluzioni che vanno a rendere obsolete quelle aziende, anche un'evoluzione delle preferenze dei consumatori che potrebbero preferire alcuni prodotti rispetto ad altri nel futuro, una saturazione dei mercati, magari per la troppa concorrenza o per la troppa, per la poca domanda rispetto a quello che è la opportuna, diciamo, la possibilità di avere quei beni di consumo o di altro tipo sul mercato e anche magari l'emergere di nuove minacce competitive, magari di qualcosa che va a sostituire o migliorare quella determinata azione, quel determinato prodotto, andando a creare un disvantaggio, un disvantaggio, andando a creare uno svantaggio per le aziende, mi era venuto in inglese, disavantage, andando a creare delle problematiche per quelle aziende che fino a quel momento sono state proficue, poi un passo primario secondo me come tutte le azioni è capire il settore, chiederci come questi cambiamenti sociali e di mercato potrebbero o possono già impattare quella determinata azienda, quello che sta facendo ora potrebbe rendere ed essere proficuo, ed essere necessario per i prossimi 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, quel settore può andare in difficoltà oppure no, quel settore può essere impattato parzialmente o totalmente da qualche altro nuovo minaccio o comunque dall'evoluzione della società, queste sono valutazioni che vanno fatte così come per tutte le aziende, per cui non bisogna tenere in considerazione un'azienda da dividendo come se fosse dividendo e basta, ma bisogna sempre valutarla come azienda, come business, poi se siamo a nostro agio con i propri vantaggi competitivi di quell'azienda possiamo a quel punto andare magari ad approfondire tutto quella che è la parte finanziaria, in poche parole vogliamo investire in aziende che non siano viste come dicevo prima da dividendo e basta, ma che appunto siano aziende solide che ci possono anche fornire un capital gain nel lungo periodo, per cui quel dividendo è semplicemente un surplus che si va ad aggiungere al capital gain, per cui aziende che possono darci dei bilanci solidi, degli utili che vanno ad aumentare nel tempo, un payout ratio basso solitamente al di sotto della media magari più preferibile proprio perché le aziende se continuano ad aumentare piano piano il proprio dividendo non possiamo aspettarci che ci diano un payout ratio magari del 90% come possono essere i Ritz, ma devono essere andate ad inquadrare come aziende molto più particolari, solide, come quasi se fossero le vecchie obbligazioni dei titoli americani in cui uno dice ci guadagno poco, ma comunque ci guadagno. Quali sono le aziende che in questo momento sono dividend king? Le vediamo qui, sono queste 31, la lista poi magari se volete vi lascio un file Excel qui sotto che potete andare a scaricare, comunque sono queste aziende e queste 31, come si può vedere c'è di tutto, financial services, consumer defensive, utilities, industrials, real estate, i RIT che mi piacciono tanto, consumer cyclical, healthcare, c'è un po' di tutto. Ovviamente non ho inserito questa lista, aziende di cui ho già parlato perché non mi piace essere ripetitivo, non mi piace fare il classico youtuber che dice questa è già parlato, è buona, cerco di variare, sapete che io Johnson & Johnson ce l'ho in portafoglio, la reputo perfetta per il mio piano di investimento, per come io tratto gli investimenti, non ne parlo ancora, però sappiate che anche questa è una dividend kings che non troverete in questa lista. Per cui andiamo a parlare della prima azienda, Parker Hanefin. Allora, Parker Hanefin, aspettate che mi sposto, Parker Hanefin ha avuto una crescita del proprio dividendo da almeno 65 anni e questa molto probabilmente la potrebbe andare a mettere, se ci fosse un giorno questa lista, nelle dividend platinum o diamond, perché è tantissimo tempo che aumenta il proprio dividendo. Tra l'altro è nata nel 1917, è sede a Cleveland in Oalio, per cui è anche un'azienda che resiste da tantissimo, si è passata anche la crisi del 29 e sta ancora qui. Market cap attualmente è molto bassa, 40 miliardi di dollari o per lo meglio molto bassa rispetto a tantissime altre aziende a cui siamo abituati, un dividendo 1.3%, un ticker che è PH e un settore che è l'industria. La Parker Hanefin Corporation produce e vende tecnologie, sistemi di movimento e controllo per vari mercati mobili, industriali e aerospaziali ad ampio spettro in tutto il mondo. Ha due segmenti, uno si chiama Diversified Industrial e l'altro si chiama Aerospace System. Questo segmento Diversified Industrial offre soluzioni di tenuta schermatura, prodotti e sistemi termici, adesivi, rivestimenti e vibrazioni e aspezze del rumore, poi anche delle soluzioni di filtri e sistemi, diagnostiche e di monitoraggio, qualcosa per monitorare e rimuovere le contaminazioni da carburante, aria, olio, acqua e altri liquidi e gas, per cui va a orientarsi a quel settore industriale che è un po' più ad ampio spettro perché copre tantissime tipologie di mercati, mentre il settore Aerospace System è quello un po' più ad alta precisione, dove magari i prodotti costano di più, dove magari ci sono anche dei profitti maggiori perché si occupa appunto di creare prodotti per l'uso di programmi di cellula, motore commerciale e militari, sistemi e componenti di azionamento e controllo, controlli di alcuno del motore, ugelli, assemblaggi di gas di scarico e di motore, per cui componentistica di precisione che ha bisogno di essere talmente precisa e talmente sicura da essere utilizzato in sistemi che non diano problematiche ovviamente che potrebbero essere di risultati catastrofici nel caso in cui ad esempio un ugello non funzionasse e un razzo o un aereo andassero appunto ad esplodere. La seconda azienda, Lancaster Colony, allora anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'azienda che ha passato 50 anni da un po', 58 anni di crescita del dividendo, market cap molto più bassa, 5.3 miliardi di dollari, un dividendo 1.6%, il ticker è Lank e il settore in questo caso è un consumer defensive. Di cosa si occupa Lancaster Colony? Prima di tutto diciamo che è stata fondata nel 1961 e a sede a Watersville in Ohio, produce e commercializza prodotti alimentari speciali per i mercati di vendita al dettaglio e servizi alimentari degli Stati Uniti d'America, però ha due segmenti, uno retail e l'alto food service, per cui offre appunto degli alimenti come pane all'aglio congelato sotto il brand New York Peckery Brand, lievito in stile Parker House congelato, involtini per la cena sotto una azienda sorella che si chiama Schubert, mini bagel e così via. Poi ha anche dei vestiti, semplicemente vestiti, semplicemente 60, Cardinis, ha anche per cui due tipologie di settori, uno che è un po' destinato alla parte alimentare e l'altro un po' destinato alla parte di vestiare. In questo modo l'azienda va a coprire due diversi settori molto diciamo ad ampio spettro perché tutti hanno bisogno di mangiare e tutti hanno bisogno di vestirsi, per cui è una di quelle aziende che dal mio punto di vista fondamentalmente a meno che appunto non ci sia una problematica relativa al management che nel tempo va a fallire tutto quello che ha creato nel diciamo nell'arco delle decadi la vedo come un'azienda molto ma molto interessante. Ovviamente vanno fatte sempre le prime valutazioni perché come dicevo all'inizio qualunque azienda va valutata sempre perché le condizioni di mercato potrebbero andare a cambiare alcune cose ad esempio che ne so il lievito congelato della Parker House che vediamo qui tra dieci anni potrebbe non più essere utilizzato da nessuno e magari non venduto. È solo un esempio stupido però ricordiamoci che ogni azienda non è che si compra è come facciamo una volta si mette nel cassetto e via perché si fanno danni anche così. Bisogna magari annualmente per questo tipo di aziende andare a vedere se ci sono delle valutazioni molto ampie in quello che sono le dinamiche che vengono tenute all'interno e se ci sono delle possibilità che queste aziende vadano a crearci delle problematiche future. Ultima azienda famosissima non so se la conoscete si chiama Lowus Company anche in questo caso abbiamo 58 anni di crescita consecutiva del dividendo una market cap leggermente più grande 134.2 miliardi di dollari un dividendo anche leggermente più alto delle altre due un 2% ticker LW anche in questo caso consumer defensive però un'azienda leggermente diversa dalle altre perché non si occupa di alimentare non si occupa di vestiario ma insieme alle varie controllate e operano come rivenditore di servizi e prodotti per il miglioramento della casa per cui quello che in americano o in inglese viene definito home improvement sia negli stati uniti che a livello internazionale viene offerta per cui una linea completa di prodotti per costruzione manutenzione riparazione rimodellamento e decorazione diciamo delle case vende anche elettrodomestici vernici hardware per cui diciamo tutto quello che sono gli attrezzi per fare i lavori mulini per roba per il prato per il giardino l'illuminazione legname grezzo materiale da costruzione per cui anche piastrelle cucine bagni impianti traulici grezzi elettrico stagionale anche all'aperto per cui tutto quello che può essere esempio sedie e tavolini da mettere in estate al 29 gennaio 2021 gestiva 1974 negozi di home improvement in hardware in tutti gli stati uniti d'america aziende vendite anche online con due siti lowes.com e lowesforpros.com che è destinato un po più a quegli operatori che sono professionali e anche ovviamente attraverso delle app l'azienda è anche questa ha passato la famosa crisi del 29 perché è nata nel 1921 e a sede a mooresville nella carolina del nord cosa aggiungere come conclusioni ovviamente quello che dico sempre che qualsiasi tipo di investimento non è mai sicuro qualsiasi tipo di investimento va sempre monitorato nel tempo analizzato queste aziende hanno uno storico importante hanno una vita importante ma di sicuro c'è solo la morte e le tasse e io diciamo qualche dubbio sulla morte ne ho anche per cui diciamo che bisogna essere molto ma molto riflessivi su quello che si fa analizzare le aziende continuamente fare in modo che le aziende non siano dei foglietti da mettere nel cassetto ma siano appunto delle cose che fanno parte della nostra vita gli investimenti io li considero sempre come se fossi un azionista di quell'azienda e credo che ognuno di noi se va a comprare qualcosa non direbbe mai e lo comprano tutti lo compro anch'io immaginate andare a prendere la pizza in un negozio perché ci vanno tutti e dopo la prima volta scoprite che non sia buona cioè continuereste ad andarci no immaginate poi a farlo con delle aziende in cui se fate le scelte che non sono giusto comunque se le aziende nel tempo vanno a dare delle performance negative andreste a perdere i vostri soldi e ne abbiamo parlato anche nella live dell'altro giorno in cui parlavo dei bias and our moment effect che magari vi lascio qui da qualche parte molto interessante su quale siano le problematiche che ci fanno legale a delle azioni in maniera diciamo emotiva senza farci più ragionare su quello che è l'effettiva possibilità che abbiamo nel gestire quelle aziende comunque ragazzi spero che questo contenuto sulle dividend king sia stato di interesse fatemi sapere se volete che vi lasci il file link del del file qui sotto in descrizione ve lo lascio tranquillamente non è un problema ovviamente se il video di stato di gradimento un pollice in su se siete nuovi sul canale iscrivetevi e cliccate la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo e abbiamo una discussione qui sotto nei commenti nel caso voleste diciamo approfondire queste tematiche ovviamente non non venite a dirmi che sono dividendi bassi che sono gli americani per cui c'è doppia tassazione non è di questo che stiamo parlando in questo video sto semplicemente illustrando 3 dividend kings bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao